Per tutta la durata della Seconda Guerra Mondiale, l'isola di Malta sarà considerata una spina nel fianco per le potenze dell'asse. E benché sia o stato sicuramente un vantaggio sul campo strategico e non solo per le forze alleate, l'isola necessitava di essere rifornita. Saranno gli inglesi ad occuparsi di ciò e già avevano mandato diversi rifornimenti, rifornimenti che potevano giungere però solo via nave. All'inizio di giugno del 1942 l'Inghilterra fa partire due coinvogli, uno da Gibilterra e uno da Alessandria, con due nomi diversi. Quello da Gibilterra venne nominato Arpone e quello da Alessandria Vigorus, entrambi con lo scopo di poter portare dei rifornimenti all'isola. E per riuscire ad arrivare a questo obiettivo vennero schierate da parte inglese, pensate un po', 76 navi da guerra. E per parlare di quella che si sarebbe originata da lì a poco come battaglia di mezzo giugno, mi baserò su due testi. Uno è il libro di Alberto Santoni, da Alissa Le Falkland, storia politica navale dell'età contemporanea. E l'altro è il testo di James Sankovic, la marina italiana nella seconda guerra mondiale. È proprio dal testo di Sankovic che vorrei nominare l'unità inglesi e anche italiane, che presero parte a quella che sarà appunto la battaglia di mezzo giugno. Per il Harpoon vennero messi oltre 17 mercantili e la petroliera Kentucky, la corazzata Malaya, due portaerei, l'Igol e l'Argus, gli incrociatori Kenya, Liverpool, Cardis e Cairo, 17 cacciatori pediniere, 4 sommergibili e 19 unità minori. Mentre per il convoglio di 11 mercantili che partiva da Alessandria, vennero messi gli incrociatori Cleopatra, Dido, Hermione, Euralius, Arettusia, Birgam e Newcastle, gli incrociatori Antaereo Coventry, 26 cacciatorpediniere, 18 sommergibili e 13 unità navali minori e il Centurion camuffato da corazzata. La risposta italiana non si fece attendere e per contrastare i rifornimenti provenienti da Alessandria, cioè Vigorus, vennero fatte salpare la corazzata Littorio e Vittorio Veneto, oltre alla terza e l'ottava divisione incrociatori che aveva il Gorizia, il Trento, il Garibaldi e il Duca d'Aosta. E invece dall'altra parte, per contrastare Arpun, a capo e comandate dall'ammiraglio Alberto Dazzara, vennero fatte salpare l'Eugenio di Savoia e il Monte Cuccoli, scortato dalle unità di cacciatorpediniere, tra cui Vivaldi e il Maloccello. C'è anche da dire che oltre alla parte italiana altre cacciatorpediniere di scorta aveva l'asse e la possibilità di usare anche l'aviazione. Nel 1942 cambia il modo di approcciarsi alla guerra navale. C'è sempre un po' triste quando parlo di guerra, però parliamo comunque di battaglie storiche che per la mia passione di storia mi piace ricordare in qualche modo. Tenendo presente che cosa? Che nel momento in cui si è iniziata la guerra, come voleva il fascismo, le varie componenti in tutto dovevano essere inquadrate. Invece si comincia a capire che oltre alla tecnologia, perché le navi italiane cominciano sia ad essere addestrate al tiro notturno, ma soprattutto ad avere il radar, che gli inglesi invece usavano già, si capisce che avere una possibilità integrata tra forza navale e forza aeree può cambiare il corso della guerra. Infatti si dice che l'Italia era impreparata alla guerra anche da questo punto di vista, nel senso che avevamo sicuramente dei punti forti, però avremmo avuto bisogno di almeno due anni come minimo per essere pronti alla seconda guerra mondiale. Infatti io penso che già dal 1942 dei cambiamenti necessari da molti punti di vista si vedono. Forse un po' tardi, ma le stime, almeno precedenti, erano corrette. Bene, dicevamo che l'asse poteva contare anche sull'impiego di aeroplani, tant'è che nel Mediterraneo ce n'erano 347 e che alcuni vennero spostati appunto in Sardegna quando Supermarina seppe che ci sarebbe anche un convoglio che sarebbe partito da Gibilterra. La battaglia di mezzo giugno inizia sì con la pianificazione dei due convogli, ma quando anche due sommergibili italiani, l'Urshek e il Giada, individuano Harpoon e lanciano contro diversi siluri. C'è da dire che spesso i siluri non scoppiavano e Supermarina dopo un po' andò in profondità alla cosa e vide che era perché nella fabbrica Baia dove li producevano, l'addetto controllo qualità non faceva bene quello che doveva fare. Ci fu anche un processo in cui il responsabile si difese dicendo che era un atto quasi partigiano apposta per sabotare le potenze dell'asse. Questa difesa però diciamo solleva ancora molti dubbi e il problema verrà risolto solo dopo. Quindi non si sa comunque se questi due sommergibili siano riusciti comunque a danneggiare le navi avversarie. Secondo l'equipaggio del Giada pare che riuscissero a colpire un incrociatore. Detto questo, la mattina dopo, nel 14 giugno del 42, diversi aerei italiani, gli S-79, i Machi 200, i 100 bis insomma decollati dalla Sardegna individuano arpune e sganciano delle bombe. Tornando indietro vengono fatti partire sia aerei italiani sia aerei tedeschi e si registrano perdite per 25 aerei italiani che erano aerei siluranti molto esposti quando lanciavano il siluro al fuoco di contraerea e tre aerei tedeschi persi. Per parte inglese i piloti dell'asse quando tornarono credettero di aver danneggiato gravemente la porta aerei, danneggiato gravemente la corazzata, di aver affondato diversi cacciatorpediniere, danneggiato incrociatori, abbattuto non meno di 29 aerei inglesi, invece appunto da queste incursioni aeree emerse che erano stati abbattuti 11 aerei inglesi, era stato danneggiato l'incrociatore Liverpool ed era stato affondato il mercantile Tanimbar. È possibile che ulteriori attacchi dalla Sardegna avrebbero portato altre numerose perdite agli inglesi ma purtroppo non c'erano più i mezzi e quindi decolleranno poi degli aerei dalla Sicilia. Ma prima di parlare di questo bisogna parlare dello scontro navale vero e proprio, nel senso che le navi inglesi di Harpoon e le navi comandate dall'ammiraglio Dazzara si incrociano sul campo. A questo punto gli inglesi ordinano alle navi con voglio, alle navi di rifornimento, di staccarsi e continuare la rotta più verso sud in modo da riuscire a non essere intercettate dalle navi italiane. Dazzara si accorge di questa manovra e andando lui personalmente a impegnare le navi di scorta inglesi manda il Vivaldi e il Malocello, che sono più lenti, ad attaccare le navi di scorta. Il Vivaldi viene colpito ed è lì per affondare. Il Malocello, nonostante avesse avuto l'ordine di ritirarsi, riuscirà tramite le cortine fumogene a portare il Vivaldi a rimorchio fino in Italia, azione che varrà una medaglia d'argento al Valor Militare. Dazzara attacca le navi inglesi e riesce a colpire il Bedouin, il Patridge e il Cairo danneggiandoli e gli inglesi quindi fanno delle cortine fumogene che l'ammiraglio Dazzara tenta di aggirare, tenta di forzare, ma essendo sprovvisto di radar purtroppo non riesce a intercettare le navi inglesi che quindi si sganciano dal combattimento. Il testo di Santoni a questo punto dice che Dazzara fa un errore di manovra e che non trova più gli inglesi. Il testo di Sankovic invece spiega che in quel momento Dazzara, che non ha radar ed è, diciamo, ha delle cortine fumogene attorno e per la posizione geografica in cui si trovava aveva due possibilità. O andare verso sud, sapendo che il convoglio e anche le navi da scorta avrebbero continuato ad andare verso Malta, oppure andare a intercettarli verso nord. Aveva queste due opzioni. Dazzara sceglie di andare a nord perché a sud c'era un campo minato. Gli inglesi purtroppo decidono di andare proprio verso il campo minato e quindi Dazzara non li incontrerà più. Gli aveva però per il momento battuti sul campo. Gli inglesi, scegliendo di andare verso sud, ah c'è anche da dire una cosa, Dazzara aveva colpito gli inglesi perché le navi italiane avevano una gittata molto più potente e dei cannoni più forti rispetto a quella inglese. Ecco il motivo del perché anche gli inglesi, nonostante avessero il radar, è preferirono lanciare delle cortine fumogene ed allontanarsi. In questo caso la gittata dei cannoni italiani aveva portato un vero vantaggio sul campo. Dicevamo, gli inglesi quindi vanno verso sud, sul campo minato hanno diverse perdite e l'aviazione di Sicilia, stanziata in Sicilia assieme alla Ludwaffe, riesce a danneggiare diversi convogli. Tant'è che solo due coinvogli di rifornimenti, quindi due mercantili, riusciranno a raggiungere Malta e porteranno 15.000 tonnellate di rifornimenti. Per le perdite inglesi si registra anche la perdita della petroliera Kentucky e anche diverse unità da guerra danneggiate. Dall'altra parte, quindi da parte orientale, al comando appunto di Vigorus c'era l'ammiraglio Vian, il quale partito da Alessandria anche lì incontra subito gli aerei, sia italiani sia tedeschi. E gli aerei tedeschi riescono a colpire e a danneggiare i mercantili City of Calcutta e Elisabeth Beck, mentre gli aerei italiani affondano la nave trasporto Bhutan. Ci furono altre sette incursioni quel giorno da parte della Ludwaffe e l'ammiraglio Vian continua a cercare di raggiungere Malta, ma a un certo punto viene a conoscenza che le navi di Iachino, tra cui le due corazzate Littore e Vittorio Veneto, hanno ormai preso il mare, al che chiede di poter tornare ed invertire la rotta, permesso che gli sarà concesso, ma gli sarà concesso solo dopo le due di notte, perché credevano che se fossero avuto un contatto con gli italiani, i sommergibili inglesi avrebbero potuto portare diversi danni. Questa scelta però di proseguire fino alle due senza invertire la rotta porterà invece l'affondamento del Newcastle, dell'incrociatore Newcastle, ad opera di torpediniere tedesche. A un certo punto allora le navi inglesi invertono la rotta e mentre tornano verso Alessandria diverse azioni aeree tedesche e italiane riescono a colpire e ad affondare sia dei mercantili a colpire diverse navi da guerra. Iacchino che ha il comando delle navi italiane cerca di raggiungere dalla caccia sostanzialmente alle navi inglesi, ma il fatto della distanza non permetterà un raggiungimento. Le navi italiane sono adesso addestrate al combattimento notturno e alcune sono state dotate di radar. Grazie al radar Iacchino riesce ad evitare di incrociare le formazioni aeree britanniche, però alcuni aeree inglesi dei B-24 riescono a colpire con delle bombe, in particolare una da mille libre, la torre popiera della corazzata Littorio. Iacchino comunque continua ad avanzare per cercare di colpire gli inglesi, ma questi bombardieri arrivati a bombardieri americani riescono a colpire l'incrociatore Trento che poco dopo verrà fondato da un sommergibile inglese. E' a questo punto che Iacchino, ormai venuto a conoscenza che gli inglesi hanno fatto in versione di marcia, che decide quindi di tornare alle basi italiane. La battaglia di mezzo giugno quindi si può concludere con la perdita da parte italiana di un incrociatore, il Trento, e con la Littorio danneggiata. Perdite che però non sono paragonabili a quelle inglesi in questa battaglia, perché sempre dal testo di Sankovic vado un po' a elencare perché devo ammettere che questa parte tutta a memoria non la so, ma provvederò insomma. I britannici avevano perso l'incrociatore Hermione, i cacciatori pedinieri Airdal, Bedouin, Asti, Kuja, Kenestor, Dragamine, 1, i mercantili Atterkick, Butan, Burdwan, Kant, Kentucky, Tanibar. Poi erano stati danneggiati gli incrociatori Aretusa, Birgham, Cairo, Liverpool e Newcastle. Erano state danneggiate le navi di trasporto City of Calcutta, Orari, Elizabeth Bake e Potaro. 5 cacciatorpediniere, un dragamine, una carvetta e proprio il centurio. Oltre le due portiere inglese, la Eagle e l'Argus, erano molto malconce, tant'è che l'Argus era già in bacino di carenaggio. Le perdite inglese erano state parecchio elevate e, riassumendo un po', da parte del convoglio partito da Gibilterra, cioè Arpun, solo due navi mercantili erano giunti appunto a Malta, portando 15.000 tonnellate di rifornimento che in realtà erano poche, erano insufficienti ma erano il doppio di quelle che gli inglesi erano riusciti a portare a Marzo. Dazzara aveva battuto gli inglesi sul campo e dall'altra parte nessun convoglio inglese raggiunse Malta. Per Iachino si trattò però un po' non proprio di una vittoria perché non riuscì comunque a infliggere danni considerevoli al nemico benché gli avesse dato la caccia e sottolineò che se allora non ci fosse stata penuria di carburante probabilmente gli avrebbe anche raggiunti e quindi gli avrebbe potuto sicuramente infliggere danni maggiori. È da sottolineare che già solo la presenza della Littorio e della Vittorio Veneto aveva permesso quindi di spostare completamente un'intera formazione da battaglia inglese, non avendo gli inglesi nessuna nave da poter opporre. Fu una vittoria più dell'asse anche della reggia marina questa contro gli inglesi però Malta che appunto sarà solo è una grande spina nel fianco è da sottolineare che non riuscirà a rimanere tale solo perché gli arriveranno questi tipi di rifornimento ma anche perché venne rafforzata anche la situazione in Africa. Certo forse l'esito della guerra sarebbe stato diverso se da subito Malta fosse stata presa ma così non andò. Spero che questa storia sia piaciuta anche a voi, forse riprenderemo la prossima volta con la battaglia di mezzo agosto. Ciao!